buonasera benvenuti a questo periodico appuntamento con il webinar coffee with calefi mi chiamo claudio ardizzoia lavoro in calefi da circa 30 anni con ruolo di standard and product marketing manager mi occupo di sviluppo e marketing prodotto impiantistica certificazione dei prodotti e normative in questo appuntamento odierno ci occuperemo di impianti di distribuzione dell'acqua calda e fredda sanitaria al servizio soprattutto di strutture recettive quali hotel residence campeggi ecc impianti al servizio di queste strutture possono rimanere inattivi per lunghi periodi per stagionalità normale oppure per degli accadimenti improvvisi come quelli che purtroppo ci hanno colpito dedicheremo un'attenzione agli aspetti di sicurezza ed igienici alla disinfezione al contorno della legionella e a tutte le fasi di gestione e di manutenzione dobbiamo far ripartire questi impianti il relatore di oggi che ci accompagneranno in queste presentazioni saranno alessia soldarini che in calefi da oltre dieci anni si occupa di tantissime attività legate ai prodotti e agli impianti tra cui la redazione esecutiva della rivista idraulica marco godi in calefi da circa 13 anni si occupa di consulenza impiantistica promozione tecnica e seminari per i progettisti e gli operatori del settore al termine delle loro presentazioni ci sarà sicuramente spazio per rispondere ad alcune domande cercheremo di farlo nei tempi che questo webinar ci consente nel caso cercheremo comunque nei giorni a seguire di rispondere a tutte le altre domande attraverso i nostri canali di comunicazione le domande potete farle tramite la chat sul pannello di destra del vostro computer bene a questo punto di questa piccola presentazione io lascio la parola ad alessia in maniera tale che possa partire con la sua relazione grazie a tutti e a più tardi buongiorno a tutti allora cominciamo questa presentazione sulla disinfezione contro il pericolo legionella e più che altro sulla ripartenza degli impianti sanitari in tempo di covid 19 vorrei introdurvi l'argomento prendendo spunto dalla guida per la prevenzione della contaminazione da legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile industriale questa guida questo rapporto è stato pubblicato proprio il 3 maggio 2020 quindi qualche settimana fa questo documento fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relativa alla prevenzione al controllo e alla gestione del rischio legionella negli impianti idrici proprio alla luce di questa emergenza da covid 19 perché è stato redatto questo documento perché si è avuta questa sospensione o comunque drastica riduzione nella frequenza della gestione di molti edifici o di parte di esse quali luoghi di lavoro scuole università strutture per l'infanzia quindi in generale tutti gli istituti scolastici alberghi ed edifici con alloggio ma anche ristorazione poi abbiamo centri sportivi e commerciali strutture turistico recettive ricreative espositive quindi capite che sono parecchi gli impianti che hanno dovuto o stopparsi oppure ridurre in questo periodo poi il ristagno dell'acqua e quindi anche l'uso saltuario potrebbero determinare un grave rischio per la trasmissione della legionellosi qual è lo scopo di questo rapporto lo scopo è quello di fornire indicazioni su come controllare la proliferazione per evitare uno sicuramente il verificarsi di casi in ospiti e lavoratori di strutture turistico recettive appena vengono riaperti e due per evitare che si aggravi lo stato di salute di pazienti già infettati da sars cov2 che potrebbero essere collocati in questi complessi o in queste strutture per la quarantena quindi chi sono i destinatari di questo rapporto sono i gestori delle strutture turistico recettive in primis quindi quelli che rientrano nel codice teco 55 se vogliamo essere più precisi ma sono poi anche i gestori di altri edifici ad uso civile e industriale che non sono stati utilizzati durante questa pandemia e poi le autorità preposte alla tutela della salute perché sono coinvolte nella prevenzione nel controllo e nella gestione dei rischi correlati alla contaminazione da legionella a chi fa riferimento a cosa scusate a cosa fa riferimento il rapporto fa riferimento alle indicazioni contenute in questa serie di documenti quindi vanno ad integrare questa serie di documenti sicuramente fa riferimento alle linee guida nazionali con le misure di routine di prevenzione controllo per contenere la proliferazione di legionella fa riferimento al decreto legislativo 81 del 2008 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio legionella sia per i lavoratori che per le altre persone che frequentano il luogo di lavoro fa riferimento poi al decreto ministeriale del 14 giugno 2017 che si occupa di valutazione e gestione dell'acqua negli edifici e poi alle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità sulla sicurezza dell'acqua negli edifici quindi è solo un'integrazione a patto che tutte queste queste linee e decreti vengano rispettati andiamo a fare un po un recap sulla legionellosi in italia che cos'è la legionella la legionella è il microrganismo quindi è il batterio mentre la legionellosi è la malattia batterica causata dall'inalazione di acqua contaminata che si può manifestare o con la febbre di pontiac o con la malattia del legionario l'aerosol è quindi la sospensione di particelle di minuscole gocce d'acqua hanno dimensioni inferiori ai 5 micron che possono essere inalate quindi è importante sottolineare che la legionellosi si trasmetta all'uomo attraverso l'inalazione degli aerosol contaminati ma non si contrae bevendo l'acqua contaminata o per trasmissione interumana questo è giusto un ripasso in italia il ministero della sanità ha incluso dall'83 la legionellosi tra le malattie infettive diffusive soggette ad obbligo di denuncia quindi andiamo a vedere per esempio il numero dei casi dal 1997 al 2015 è in costante crescita non tanto per un progressivo aumento della diffusione del batterio ma quanto per una maggiore conoscenza e probabilmente una maggiore notifica della premessa di legionella in italia in europa diciamo che la letalità per la malattia dei legionari è circa il 10 per cento dei casi acquisiti in comunità quindi quelli che vedete nella grafico a porta indicati con il blu e i casi invece acquisiti in ospedale o le comunità chiuse o associati ai viaggi non raggiungono raggiungono percentuali molto più basse di letalità quali sono i soggetti a rischio sono soggetti più che altro di sesso maschile età avanzata fumatore o consumatore di alcol e affetti da malattie croniche e con immunodeficienza acquisita per interventi terapeuti o affetti da HIV quindi questa sono la categoria più a rischio che cosa è stato introdotto è stato introdotto il registro nazionale della legionellosi per promuovere la raccolta di informazioni accurate quindi dal 1993 abbiamo questo registro ci sono queste schede di segnalazione che devono essere compilate e inviate all'ISS ogni qualvolta viene diagnosticato un caso di legionellosi nonostante questo l'aumento delle notifiche ci sia stato dal 93 ad oggi sia in che in europa si sostiene che la legionellosi sia ampiamente sottostimata per due ragioni la prima ragione è che purtroppo è poco diagnosticata perché spesso viene confusa con polmonite la seconda ragione è perché non sempre viene notificata le autorità sanitarie quindi non sempre vengono compilate queste schede di segnalazione da inviare poi all'istituto superiore di sanità qual è l'obiettivo del registro sicuramente monitorare la frequenza in italia da legionellosi identificare eventuali variazioni nelle trend della malattia identificare i casi epidemici dovuti magari a particolari condizioni ambientali e poi in ultimo ma con lo scopo anche principale attivare appropriate misure di controllo dove si forma il batterio della legionella ecco è presente negli ambienti acquatici naturali quindi acque sorgive comprese quelle termali fiumi laghi fanghi ma poi è presente negli ambienti artificiali come le condotte cittadine gli impianti idrici gli impianti di condizionamento torri evaporative ma anche le fontano gli impianti d'acqua termali adesso vi do solo un accenno di queste tipologie di impianti ma vi rimando al numero 23 di idraulica in cui abbiamo trattato in modo completo sia gli impianti che processi tecnologici maggiormente a rischio quindi volendo potete approfondire su questo numero dell'idraulica passiamo ora a vedere che cosa suggeriscono le linee guida del 2015 sì perché nel 2015 sono state pubblicate quelle che vengono chiamate le nuove linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi andavano ad aggiornare quelle del 2000 che sono state il primo documento nazionale finalizzato proprio a fornire agli operatori sanitari delle informazioni aggiornate sulla legionellosi quindi prima del 2000 non c'era un documento del genere le linee guida del 2015 sono state create con l'intento di riunire aggiornare integrare in un unico testo tutte le indicazioni che venivano riportate non solo nelle precedenti linee di guida nazionale quindi quelle del 2000 ma anche nelle linee guida del 2005 che facevano riferimento ai gestori delle strutture turistico recettive e termali e ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi quindi hanno riunito in un unico documento tutte le indicazioni che prima appartenevano a tre documenti diversi scorrendo le linee guida troviamo la tabella 1 e abbiamo qui un estratto della tabella 1 in cui possiamo andare ad individuare quelli che sono i fattori di rischio ambientali per la legionellosi comunitaria e quindi troviamo gli impianti idrici complessi e la presenza di lani morti la legionellosa società ai viaggi quindi al soggiorno in albergo in camere con occupazione discontinua con erogazione intermedia dell'acqua con il difficile controllo della temperatura perché non sempre poi si riesce a mantenerla costante all'interno dell'impianto o sempre impianti idrico complesso personale non formato e poi quella invece nosocomiale che quindi potrebbero essere impianti idrici complessi vetusti rami morti bassa pressione o anche flusso intermittente di acqua quindi questi sono i maggiori fattori di rischio ambientale se andiamo poi a leggere più in particolare il capitolo 5 che fornisce indicazioni per la progettazione la realizzazione e la gestione degli impianti idrosanitari poi capitolo 5 in realtà parla anche degli impianti aeraulici ma noi andremo a soffermarci solo su quelli idrosanitari queste sono le disposizioni principali che suggerisce quindi facciamo un esempio il bollitore sanitario deve essere dotato di rubinetto di spurgo e rubinetto di predievo ci deve essere una rete di ricircolo le reti di acqua calda e acqua fredda sanitaria devono essere adeguatamente distanziate isolate e i materiali con i quali sono costruite le reti devono essere adeguate ai trattamenti termici di disinfezione la temperatura sul ricircolo deve essere mantenuta sopra i 50 gradi bisogna evitare tratti terminali quindi tratti ciechi senza circolazione di acqua e poi è indispensabile installare le valvole termostatiche di miscelazione in prossimità o sui terminali il protocollo di controllo del rischio legionellosi il il protocollo si articola in tre fasi in tre sequenzi il protocollo che è stato appunto creato dal istituto di sanità si articola in tre fasi la valutazione del rischio la gestione del rischio e la comunicazione del rischio la valutazione del rischio ovvero è il rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia deve essere fatta da una figura competente un responsabile delle tale attività che può essere un igienista un microbiologo un ingegnere con esperienza specifica e in cosa consiste consiste nell'ispezione degli impianti a rischio nel valutare nel richiedere gli schemi di impianto aggiornati individuare i punti critici di ciascun impianto a rischio e poi andare a seguire le indicazioni di parte nell'allegato 12 dove c'è proprio una lista di controllo per agevolare la raccolta delle informazioni di base questo serve per definire una scala di gravità del rischio e le relative priorità poi di intervento quali sono i fattori di rischio tra tra quelli indicati nell'allegato 12 la temperatura deve essere compresa tra 20 e 50 gradi la presenza non deve essere compresa scusate un fattore di rischio potrebbe essere la temperatura compresa tra i 20 e 50 gradi ci potrebbero essere tubazioni con flusso minimo o assente che aumentano ancora di più il rischio un utilizzo stagionale o discontinuo caratteristiche manutenzione impianti o terminali di erogazioni quindi non fatte magari manutenzione mancante complessità vetusta dell'impianto magari dimensioni troppo grandi dell'impianto un ampliamento una modifica di un impianto esistente senza poi averlo regolarmente riqualificato quindi anche dal punto di vista delle caratteristiche dell'acqua l'utilizzo magari di gomme o fibre naturali per i sistemi di tenuta e poi la presenza e la concentrazione di legionella evidenziata a seguito di pregresse accertamenti ambientali quindi ci sono varie tabelle che poi ci danno anche un'indicazione di come fare a intervenire qual è la periodicità della valutazione del rischio dovrebbe essere fatto almeno ogni due anni preferibilmente ogni anno ma comunque almeno ogni due da parte del gestore della struttura recessiva la valutazione del rischio deve comunque essere sottoposta a revisione con carattere di urgenza quando c'è la segnalazione di un possibile caso di legionellosi quindi in quel momento bisogna riprenderla in mano e riadattarla cosa serve serve per andare a creare un piano scritto per il controllo e la manutenzione di ciascun impianto a rischio quindi gli interventi proprio che devo mettere in atto per poter controllare l'impianto con particolare riferimento a quelle procedure di pulizia e disinfezione e alla periodicità con cui devo farle perché vi sto dando tutte queste informazioni per sottolineare la speranza che ci sia negli impianti su cui andrete ad operare nelle prossime settimane un piano scritto per il controllo e la manutenzione di ciascun impianto a rischio ci dovrebbe essere quindi questo dovrebbe essere il punto di partenza sul quale intervenire il secondo step del del protocollo di controllo è la gestione del rischio cioè i gestori delle strutture devono adottare tutte le misure preventive per assicurare una riduzione un controllo del rischio di legionellosi e qualora ci dovesse essere un potenziale rischio occorre effettuare cerermente un campionamento dell'acqua ovviamente per le strutture per esempio a funzionamento stagionale questo campionamento deve essere effettuato sempre prima della loro riapertura questo è quello che dice che dicono le linee guida e l'allegato 3 della linea guida appunto riporta anche il protocollo operativo per eseguire tale campionamento in base poi all'estito del campionamento le linee guida ci indicano anche i tipi di intervento richiesti e qua sono le tabelle 6 o 7 per chi volesse prenderne nota l'ultima fase è quella della comunicazione del rischio che serve per andare a monitorare il rischio legionellosi quindi la comunicazione del rischio prevede le informazioni prevede di fornire tutte le informazioni relativa alla votazione del rischio a chi al gestore della struttura ea tutte le persone coinvolte quindi è molto importante che è molto importante perché l'informazione la formazione sono proprio un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione di queste indicazioni a questo punto vi ho fatto una panoramica dal punto di vista normativo e lascerei la parola a marco che vi illustrerà invece come far ripartire un impianto fermo da lungo tempo a te la parola marco grazie grazie alessia come anticipato ora andremo a vedere in pratica come si applica quanto hai spiegato in un impianto di distribuzione sanitaria e come dobbiamo muoverci dunque per far ripartire quegli impianti che come in questo periodo sono rimasti fermi per molto tempo per quanto riguarda i metodi di disinfezione ci possiamo muovere in due direzioni cioè un metodo chimico o un metodo termico. In entrambi i casi la scaletta logica da seguire è quella che vediamo indicata nella parte superiore della slide quindi innanzitutto come diceva anche Alessia occorre fare un'analisi batteriologica per capire i fattori di rischio per capire il rischio che c'è nel nostro impianto la quantità di batteri e adottare di conseguenza soluzioni adeguate. Successivamente si passa a una fase di disinfezione in cui si va a pulire la nostra rete di distribuzione sanitaria dalla presenza di batteri e terminata questa fase di disinfezione si passa nuovamente a un'analisi batteriologica per verificare che sia andato a buon fine l'intervento. Partendo dal metodo chimico ci sono due strade percorribili che vengono definite iperclorazione shock o iperclorazione continua. Come capite bene dai nomi le due strade hanno intensità diversa mettiamola così. L'iperclorazione shock è un trattamento che comporta maggiori quantità concentrazioni di cloro all'interno dell'acqua quindi di conseguenza è un intervento temporaneo con una notevole forza di pulizia. L'iperclorazione continua invece è un tipo di intervento più blando con contempla concentrazioni di cloro molto più basse da 1 a 3 milligrammi al litro. Quando si opera questo tipo di metodologia occorre tenere ben presente il valore di pH dell'acqua perché va a influire sulla presenza di cloro all'interno del fluido. Per questo è bene che rimanga in valori compresi tra 6 e 7. Un altro fattore importante durante il metodo chimico è la temperatura dell'acqua. Deve essere un impianto fermo, impianto freddo, quindi temperatura inferiore ai 30 gradi centigradi. Capite bene che questa tipologia di intervento si può applicare sia impianti di distribuzione di acqua fredda sanitaria che di acqua calda sanitaria. Andiamo nello specifico a vedere l'iperclorazione shock che è la tipologia di trattamento più diffuso. Parlando di un impianto la prima cosa da fare per eseguire la disinfezione è spegnere l'impianto e aspettare che si raffreddi la parte di distribuzione acqua calda, quindi dobbiamo avere tutto l'impianto a un valore di temperatura come vi dicevo inferiore ai 30 gradi centigradi. Per fare la disinfezione vengono inseriti all'interno del sistema, quindi come vedete da questo schema sulla rete di ingresso a monte di ogni stacco di acqua fredda o acqua calda sanitaria, vengono collegati dei dosatori per l'inserimento di iperclorito, di sodio o di calcio. Vi dicevo questo va inserito sulla linea di reintegro, quindi va a trattare tutto l'impianto. In base alla concentrazione di condizionante che andiamo a inserire varia la durata dell'intervento. Giusto per fare un esempio, se noi utilizzassimo 20 mg litro, che come dicevamo per l'iperclorazione shock è il quantitativo minimo, l'intervento deve durare almeno un paio d'ore. Nel caso utilizzassimo una concentrazione maggiore, andiamo a vedere per esempio il limite massimo di 50 mg litro, il trattamento di disinfezione può durare un'ora. Tenete presente che utilizzando del cloro all'interno dell'impianto si cambia le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Questo vuol dire che una volta terminato il trattamento ci si deve preoccupare di svuotare completamente l'impianto, lavarlo e ricaricarlo nuovamente, assicurandosi che anche nei punti distali, ovvero nei punti più remoti dell'impianto, le concentrazioni di cloro non superano i valori di 0,5, massimo 1 mg per ogni litro. Parlando invece dell'altra tipologia, ovvero il metodo termico, di nuovo troviamo la sequenza logica da seguire, quindi di nuovo analisi batteriologica iniziale, trattamento di disinfezione e di nuovo analisi batteriologica finale per capirne l'esito del trattamento. Anche in questo caso possiamo scegliere due strade, un trattamento temporaneo ma sicuramente molto più forte che è lo shock termico, oppure un trattamento continuo, quindi utilizzabile sia per la disinfezione ma anche per il mantenimento dell'impianto che la disinfezione termica. Come vi dicevo sono due trattamenti che hanno una potenza diversa sull'impianto, lo capiamo anche dalle temperature, un trattamento continuo utilizza temperature di 60 gradi, almeno 60 gradi, mentre un trattamento shock utilizza temperature decisamente più elevate, il fluido vettore deve raggiungere 70-80 gradi centigradi. È una tipologia di trattamento che normalmente si utilizza sulla rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, tuttavia ci sono dei casi particolari che vedremo più avanti durante il nostro incontro per cui può essere utilizzato anche sulle reti di distribuzione dell'acqua fredda. È importante notare quello che riportiamo qui sotto, ovvero negli impianti dove l'acqua è costantemente mantenuta a temperature comprese tra i 50 e i 55 gradi, se ricordiamoci bene questi valori, viene inibita la proliferazione della legionella. Cosa vuol dire? Vuol dire che entro questo range la legionella è contenuta all'interno dell'acqua ma non riesce a proliferare, rimane abbastanza inattiva. Con valori di temperatura superiori ai 60 gradi si riducono il numero di colonie in modo proporzionale al tempo di esposizione. Ovviamente più è alta la temperatura più la diminuzione delle colonie diminuisce. Andiamo a vedere lo shock termico. Il trattamento di shock termico si basa su una temperatura di acqua compresa tra i 70 e gli 80 gradi, quindi nella nostra rete di produzione di acqua calda sanitaria dobbiamo raggiungere questo valore e distribuirlo in tutto l'impianto. L'unica accortezza a questo punto è verificare nei punti più lontani, nei punti più remoti, e parlo espressamente degli impianti più estesi, quelli più piccolini sono più facili a gestire, ma quelli più estesi magari tante volte alcuni tratti lontani sfuggono, anche in questi punti lontani dobbiamo essere sicuri che l'acqua sia un valore superiore ai 30 gradi. Quest'acqua a temperatura elevata deve circolare all'interno dell'impianto per una durata di tre giorni, continuamente. Altra nota, durante questi tre giorni di disinfezione e di trattamento di shock termico, l'operatore si deve preoccupare di effettuare il flussaggio, quindi deve andare ad aprire tutti i punti di erogazione della rete di distribuzione acqua calda sanitaria per almeno 30 minuti al giorno. L'altra tipologia di disinfezione termica, ovvero la disinfezione termica, basa sempre il suo funzionamento sulla temperatura. In questo caso dobbiamo distinguere due parti dell'impianto, la rete di produzione e la rete di distribuzione. Nella rete di produzione, quindi bollitore, il trattamento è sostanzialmente un trattamento continuo perché andiamo ad avere all'interno dell'accumulo un'acqua con temperature 65 gradi o superiori, quindi una temperatura in cui stiamo già debellando le colonie di legionella. Per andare a fare il trattamento sulla rete di distribuzione, possiamo scegliere se averlo anche in questa volta in maniera continuata oppure se effettuarlo con un sistema periodico giornaliero. In entrambi i casi dobbiamo inibire la miscelazione del lato secondario e distribuire l'acqua contenuta all'interno dell'accumulo a temperatura di 65 gradi su tutta la rete, avendo cura che la temperatura di ricircolo, quindi la temperatura che rientra all'abbollitore, sia in un valore compreso tra i 55 e i 60 gradi o comunque non inferiore ai 55. Nel caso si scelga il trattamento periodico giornaliero, devo assicurarmi che questo avvenga per 30 minuti al giorno. Il flussaggio, quindi il movimento dell'acqua, viene garantito a questo punto dalla rete di ricircolo. Andiamo a vedere proprio le tre macro aree del nostro impianto per capire come dobbiamo operare. Partiamo dalla zona di produzione, quindi dalla centrale termica. Abbiamo detto che dobbiamo mantenere la temperatura di accumulo a valore di temperatura superiore ai 60, meglio ancora a 65 gradi. Capite bene che questo è un valore che, se distribuito alle utenze, può generare il rischio di scottatura a chi va ad utilizzare l'acqua calda. Per questo motivo è importante inserire anche un miscelatore a controllo della temperatura di distribuzione in uscita dall'accumulo in questa posizione. Un altro aspetto fondamentale per garantire il corretto funzionamento della disinfezione termica è collegare correttamente, avere a disposizione una rete di ricircolo che ha due aspetti fondamentali. Il primo ci permette appunto di eseguire il trattamento, il secondo nel normale funzionamento degli impianti ci permette di evitare la stagnazione mantenendo in movimento l'acqua. Andiamo a vedere questi punti chiave della zona di produzione. Il miscelatore. Abbiamo detto che all'interno dell'accumulo abbiamo acqua a temperatura elevata che può generare la scottatura. Infatti le stesse linee guida consentono o suggeriscono l'utilizzo di dispositivi di miscelazione per evitare che temperature elevate raggiungano l'utenza, il rubinetto, e siano in grado di regolare la temperatura a valori di 48-50 gradi. Questo valore nello specifico dipende dall'estensione della rete di distribuzione. Per effettuare la disinfezione tuttavia devo trovare il modo di superare il miscelatore. Come possiamo procedere dunque? Ci sono due strade. La più classica, molto realizzata in passato, era quella del bypass del miscelatore, quindi il caso che vediamo nel primo schema qui in alto, dove sul miscelatore veniva realizzata o viene realizzata, alcuni casi si vedono ancora, una linea di bypass controllata da una valvola motorizzata, una valvola di zona motorizzata. Quando parte il ciclo di disinfezione si apre la via di bypass, si esclude la via miscelata e la pompa di ricircolo si occuperà di prelevare l'acqua dall'accumulo e distribuirla per tutto l'impianto. Con l'evoluzione della tecnica sono entrati in commercio, sono tuttora disponibili, dei sistemi più evoluti che comprendono i miscelatori elettronici o ibridi. In questo caso si perde la linea di bypass perché questa tipologia di prodotto è in grado di gestire due livelli di funzionamento, quindi gestire la fase di normale funzionamento e la fase di disinfezione. Andiamo quindi a vedere un po' meglio questi prodotti evoluti. Li possiamo distinguere, come vi dicevo, in due categorie. Il miscelatore elettronico, quindi un miscelatore motorizzato generalmente con un corpo a tre vie con all'interno una sfera di regolazione, quindi capite bene che ha delle portate molto ampie e si sposa bene con gli impianti di grosse dimensioni, controllato dalla sua centralina su cui è possibile impostare i vari stadi di funzionamento. L'altra tipologia è il miscelatore ibrido, quello che vedete qui in basso. Ibrido perché combina l'azione del classico miscelatore termostatico, ha effettivamente al suo interno un sensore termostatico di temperatura che va a gestire la corretta miscelazione, alla funzione elettronica che va a cambiare il set point di miscelazione. Da quanto vi ho raccontato, possiamo facilmente raggiungere questa tabella e vederne le differenze. Sostanzialmente l'elettronico ci garantisce la range di regolazione molto ampia tra i 20 e gli 85 gradi nel normale funzionamento, mentre l'ibrido è un pochino più compatto il range di regolazione tra i 35 e i 65 gradi, ma assolutamente in grado di soddisfare le esigenze di normale distribuzione. Passando poi alla fase di disinfezione, quindi un secondo range di temperature compare, ed è 40-85 per l'elettronico e rimane sempre comunque abbastanza alto, e per l'ibrido invece tra i 50 e gli 85, quindi temperature assolutamente sufficienti per eseguire sia la disinfezione termica che lo shock termico. Come vi dicevo, cambia il range di portata tra i due, l'elettronico offre portate più elevate, mentre l'ibrido si sposa con portate più basse. La componente elettronica di questi due dispositivi ci permette a questo punto di avere varie funzioni, quindi ci permette di programmare, far partire una disinfezione in shock termico o una disinfezione termica programmata. Ci permette di programmarla, quindi di decidere quando effettuarla, a che temperatura e la sua durata. Normalmente sono pretarati di fabbrica questi componenti, ma in realtà quando vengono installati sull'impianto è anche importante valutare la tipologia di impianto e programmarli adeguatamente. Oltretutto, oltre alla gestione della pompa di ricircolo e la gestione di eventuali punti di flussaggio, sono dotati anche di una sonda di ricircolo, che ci permette di capire se la disinfezione è avvenuta correttamente. Oltretutto, questo viene registrato, quindi ogni ciclo di disinfezione viene registrato e mantenuto in memoria per poi essere eventualmente scaricato dall'operatore in un registro di disinfezione da lasciare a disposizione della struttura. L'altro aspetto chiave di cui vi parlavo invece è la rete di ricircolo. La rete di ricircolo, come vi dicevo, ha la funzione sicuramente di evitare il pericolo di stagnazione durante il funzionamento, ma anche l'importante funzione di portare nell'impianto la temperatura di disinfezione. Ci sono varie possibilità di collegamento del ricircolo. Le principali sono quelle che andiamo a vedere. Quindi, nel caso in cui ci trovassimo con un accumulo predisposto per il suo collegamento, come vediamo nello schema, la rete di ricircolo deve essere portata sicuramente all'interno dell'accumulo, ma deve essere anche collegata alla linea di adduzione dell'acqua fredda al miscelatore. Questo serve per garantirne il funzionamento corretto. Non è solo sufficiente collegare la rete di ricircolo in questo modo, ma è anche importante utilizzare i quattro ritegni nelle posizioni che vedete indicate su questo schema. L'altra tipologia di collegamento di ricircolo è nel caso in cui l'accumulo non sia predisposto per il collegamento. In questo caso, come si può operare? Semplicemente la rete di ricircolo deve essere collegata alla linea di adduzione dell'acqua fredda al miscelatore, i ritegni anziché essere quattro, questa volta saranno solo due e il tratto di collegamento tra il punto di collegamento del ricircolo e lo stacco dell'acqua fredda verso il miscelatore assumerà un doppio senso di flusso in base alla posizione del miscelatore stesso. Passiamo ora alla seconda macroarea del nostro impianto sanitario, la rete di distribuzione. Le linee guida ci dicono chiaramente che per evitare salti termici lungo la distribuzione idrica e raffreddamenti eccessivi dell'acqua, la rete di ricircolo deve essere adeguatamente bilanciata. Cosa vuol dire? Sostanzialmente possiamo paragonare la rete di ricircolo in assenza di prelievo dalle utenze a un circuito chiuso. Degli sbilanciamenti all'interno della rete potrebbero generare dei punti più caldi e dei punti più freddi dell'impianto, quindi dei punti dove non siamo in grado di eseguire correttamente la disinfezione. Quindi il corretto bilanciamento ci porta sicuramente la garanzia di una corretta temperatura di disinfezione in tutto l'impianto, ci permette di evitare il raffreddamento di alcuni tratti dell'impianto e ci permette di garantire la corretta circolazione, quindi evitare la stagnazione in ogni dove del nostro sistema. Come possiamo fare per bilanciare questa rete di ricircolo? Ci sono anche qui diverse tipologie di bilanciamento. La più semplice, la più classica è il bilanciamento statico, dove si utilizzano valvole manuali che vanno a generare una determinata perita di carico in modo da avere una distribuzione corretta su tutto l'impianto. Tenete presente che queste valvole necessitano operazioni di bilanciamento e di taratura abbastanza complicate delle volte, soprattutto sulle reti esistenti, e non sono molto in grado di adattarsi ai cambiamenti che per natura appaiono all'interno dell'impianto. Le altre tipologie sono il bilanciamento dinamico e il bilanciamento termico. Parlando di bilanciamento dinamico, sostanzialmente si vanno ad utilizzare degli stabilizzatori automatici di portata. È un metodo molto veloce, soprattutto perché ci evita anche la fase di commissioning. È di facile installazione, ci consente una elevata precisione di regolazione e soprattutto semplifica le operazioni di dimensionamento. Infatti ci è sufficiente conoscere la corretta portata per il singolo ramo e scegliere la cartuccia di bilanciamento corretta. Tuttavia ci possono essere dei contro, ad esempio la portata che rimane costante nel tempo, quindi magari dei tratti di colonna che sono già sufficientemente caldi continuano a lavorare a piena portata aumentando i consumi delle pompe o comunque mantenendoli stabili. Un altro punto dubbio è la scarsa capacità di adattamento di questi dispositivi, essendo a taratura fissa, a portata fissa, nei casi di variabilità della portata dell'impianto sanitario dovuta magari all'utilizzo dell'acqua. Il sistema più evoluto per il bilanciamento delle reti sanitarie è il bilanciamento termico, dove si vanno a utilizzare dei regolatori termostatici multifunzione. Questi dispositivi lavorano grazie a una cartuccia termostatica interna che modula la portata all'interno del tratto di ricircolo controllato. Sono di semplice installazione, ma sono anche questa volta facili da tarare. È semplicemente necessario impostare la temperatura desiderata all'interno del ramo con l'apposita manopola. Oltretutto questi dispositivi sono dotati di una apposita funzione di bypass per garantire il bilanciamento anche durante la fase di disinfezione termica e sono in grado di seguire gli andamenti termici delle colonne aumentando o diminuendo la portata secondo necessità. Come funzionano questi dispositivi? Molto semplicemente possiamo riassumerli in quattro fasi. Partendo da sinistra, dalla fase 1, c'è la fase di regolazione termostatica, ovvero guardando il grafico la fase in cui la cartuccia, il sensore interno va a controllare la portata, va a diminuire la portata man mano che la temperatura della rete di ricircolo, del tratto di ricircolo controllato, si avvicina alla temperatura di set point. La seconda fase è quella di portata minima, quindi una volta raggiunto la temperatura di set point non si ottiene mai la completa chiusura, altrimenti torneremo nel rischio di stagnazione, ma si va a mantenere un traffilamento per mantenere in movimento l'acqua all'interno della colonna. La terza fase è quella di disinfezione, quindi qualora parte il ciclo di disinfezione controllato dal nostro miscelatore in centrale termica. Cosa succede? Il primo otturatore risulta in condizione di traffilamento, il secondo otturatore, questo sulla destra, inizia l'apertura della via di bypass, quindi ci troviamo in questa fase di nuovo di aumento della portata, in modo da consentire l'acqua a temperatura di disinfezione di passare attraverso il regolatore termostatico. L'ultima fase è quella di chiusura termica, ovvero quando la temperatura in fase di disinfezione può raggiungere livelli pericolosi intorno agli 80 gradi, torna di nuovo a chiudersi quasi completamente, ritornando alla posizione di traffilamento, questo per evitare che temperature elevate raggiungano punti lontani dell'impianto. Esiste in realtà anche una quinta fase legata a questi regolatori termostatici, ovvero la disinfezione termica comandata. Non è propriamente corretto dire quinta fase, in realtà si va a sostituire la seconda cartuccia termostatica con un sistema otturatore comandato elettricamente, quindi gestibile da remoto. Questo sistema si sposa bene con quegli impianti particolarmente estesi dove magari l'operatore vuole fare una disinfezione per zona, quindi decidere quale ramo disinfettare di volta in volta e aprirlo di conseguenza. L'ultima parte di cui ci dobbiamo preoccupare è il ramo periferico. Anche qui le linee guida ci dicono che ove si evidenziasse il rischio di ustioni dovranno essere prese adeguate precauzioni per minimizzare tale rischio, ad esempio mediante l'installazione di opportune tutele quali le valvole termostatiche di miscelazione in prossimità o sui terminali di erogazione, tenendo presente che comunque anche in questa zona devo avere la possibilità di bypassare il miscelatore per disinfettare fino al punto di erogazione. Come possiamo intervenire in questo caso? Possiamo intervenire utilizzando i gruppi compatti multifunzione, ovvero dei sistemi che combinano una parte di miscelazione, questa sulla sinistra che vediamo qua col cappuccio grigio, che nel normale funzionamento si occupa della gestione della temperatura, quindi acqua calda, acqua fredda, miscelazione alla temperatura desiderata diretta all'utenza. Durante la fase di disinfezione invece, quindi lo schema di destra, cosa si ottiene? Si ottiene l'apertura di un bypass comandato elettricamente, quindi vedete che si chiude l'utenza fredda e si apre la via di bypass, dove quindi l'acqua a temperatura di disinfezione distribuita nell'impianto viene mandata all'utenza. In questo caso non c'è più una rete di ricircolo, quindi deve essere l'operatore di volta in volta a flussare tutte le utenze. Vi dicevo all'inizio che è possibile utilizzare la disinfezione termica anche nelle reti di distribuzione dell'acqua fredda sanitaria. Com'è possibile farlo? Allora, principalmente dobbiamo preoccuparci di verificare che tutti i componenti installati sulla linea di distribuzione acqua fredda sanitaria siano in grado di resistere a temperature elevate. Una volta che siamo certi di questo, c'è la possibilità di realizzare un bypass temporaneo in centrale termica che distribuisca sulla rete fredda l'acqua proveniente dal miscelatore elettronico o ibrido e non è presente in questo schema, ma bisognerebbe realizzare anche un bypass tra la rete fredda e la rete di ricircolo a sommità di colonna. Ovviamente è una soluzione temporanea, quindi una volta effettuata la disinfezione alla repertura dello stabile deve essere scollegato e riportato l'impianto nelle normali condizioni di funzionamento. Bene, avrei concluso e a questo punto passerei la parola anche a Claudio e ad Alessia per valutare insieme le eventuali domande che ci sono arrivate. Eccoci. Bene, prima di tutto grazie sia ad Alessia che a Marco per la loro puntuale, precisa e ben dettagliata presentazione di tutte le problematiche, sia dal punto di vista normativo che naturalmente dal punto di vista pratico e impiantista. Vediamo se nel tempo che ci rimane per questo webinar abbiamo naturalmente la possibilità di rispondere ad alcune domande che magari sono arrivate nel frattempo. Alessia mi sembra che sia riuscito a raccomandarne qualcuna. Sì, l'ultima, proprio per ricollegarci subito alle ultime slide di cui ha parlato Marco, il signor Valerio dice ha senso installare contemporaneamente il sistema di bilanciamento termostatico e il sistema di controllo a valle della temperatura che avete mostrato? Quindi io penso il bilanciamento termostatico e poi il legio flow a valle. Sì, lo rispondi tu Marco? Marco, sei pure Claudio. Allora, diciamo che le due funzioni sono diverse, nel senso il miscelatore termostatico, quello appunto di utilizzo, serve per impedire che le persone si scottino con l'acqua sostanzialmente, è il primo obiettivo. Mentre il regolatore del ricircolo, sempre di tipo termostatico, bilancia i vari rami del ricircolo a una temperatura che naturalmente è quella della rete principale. Quindi, fate conto, normalmente vengono tarati tra i 55 e i 60 gradi e a questa temperatura, se uno ha la disgrazia di utilizzare l'acqua, può scottarsi. Quindi il miscelatore termostatico impedisce che comunque la persona si scoppi. Quindi i due dispositivi possono assolutamente coesistere e anzi è doveroso che ci siano tutte e due. Spero, come dire, di aver risposto. Perfetto, allora andiamo un po' a ritroso anche quello che abbiamo parlato prima e probabilmente questa ne avevi poi parlato, il signor Giancarlo diceva se nel caso di trattamento con shock termico, con ricircolo, come faccio ad andare a disinfettare anche il soffione della doccia, come realizzare la disinfezione. Ecco, poi ci sei arrivato con le slide, con il flussaggio. Esatto, quello che abbiamo visto nell'ultimo slide comunque va bypassato il miscelatore antiscottatura di utenza e va fatto purtroppo a questo punto un flussaggio manuale, quindi deve esserci l'intervento dell'operatore che va ad effettuare fisicamente il flussaggio. Ecco, esatto, in sicurezza, quindi evitando possibili scottature o incidenti. Questi protocolli che abbiamo descritto, quindi immagino shock termico e trattamento chimico, sono legati a delle prassi o basi normate, ovvero a criteri medici e scientifici. Tu in quel momento quando hanno fatto la domanda stavi presentando il metodo termico, quindi di shock e disinfettività, di protezione termica, sì, sono normati, quindi sono trattamenti descritti all'interno delle linee guida. Sono assolutamente due tipologie di intervento descritte all'interno delle linee guida come trattamenti atti a debellare i batteri della legionella come altri batteri, quindi sono assolutamente trattamenti normati, sì. Perfetto. Poi c'è una domanda un po' più tecnica sul bollitore sanitario, dice perché è bene collegare il ricircolo sia al bollitore che al ramo acqua fredda sanitaria? Il doppio collegamento va fatto per garantire la corretta portata al miscelatore, quindi per garantire il funzionamento del miscelatore anche in caso di assenza di prelievo. Molto banalmente se mancasse uno dei due collegamenti nel normale lavoro del miscelatore si troverebbe a chiudersi un'entrata piuttosto che l'altra inibendo quindi la circolazione, quindi il collegamento va portato su tutti e due i rami, oltre che per un discorso di risparmio energetico per non raffreddare il bollitore. Claudio, forse questa qua posso farla a te. Il signor Giuseppe dice ogni metodologia di disinfezione è antilegionella, per quanto valido è un'ultima spiaggia, nel senso che bisogna evitare in tutti i modi di arrivare a quel punto, tramite prevenzione e corretta progettazione, anche per il fatto che anche dopo la disinfezione il rischio di ritorno è comunque elevato. Quindi cosa possiamo dirgli? Sicuramente l'osservazione che viene fatta è mille volte corretta, non basterebbero numeri in questo caso, nel senso che è tutta una sequenza di operazioni che occorre fare con una certa logica e di conseguenza chi ha la responsabilità del progetto di un impianto, soprattutto di un impianto complesso, deve cercare di mettere in opera tutti i possibili sistemi che poi permettano all'impianto, nella sua normale vita operativa, di lavorare senza creare i problemi. Quindi in questo caso, come anche tu stessa Alessa nella tua presentazione hai fatto ben presente, i rischi principali sono sempre la stagnazione, la temperatura, assicurare una corretta circolazione e naturalmente impedire che l'acqua possa rimanere ferma, che acqua è la temperatura. Queste proprio sono le cause principali. Poi, soprattutto importantissima, non basta progettare, installare, fare tutto perfetto se poi l'impianto viene lasciato a sé stante. Quindi non viene gestito ed è questo il grosso rischio. Molti impianti, purtroppo, sono perfettamente progettati, sono perfettamente installati, hanno tutti i dispositivi che servono, ma la gestione non esiste e di conseguenza il rischio aumenta tantissimo. Bene, adesso c'è una domanda molto interessante, secondo me, del signor Fabio che dice come si conciliano le misure di disinfezione termica con le norme sul risparmio energetico vigenti. Infatti lui sottolinea il fatto che... Posso rispondere perché abbiamo dibattuto anche abbastanza recentemente questa questione e la risposta ad oggi, ormai in tutto il mondo, se mi permettete di uscire un attimo dai confini nazionali, è una sola. Quello che conta è prima di tutto la sicurezza e la salute. La parte energetica viene in secondo piano. Quindi il primo aspetto da valutare sempre, in tutte le tipologie di impianto di tipo sanitario, in questo caso è sempre la sicurezza di chi utilizza l'acqua. Poi il consumo di energia è sicuramente importante anche quello, però è a un livello al di sotto. Bene, adesso io... questa domanda probabilmente è proprio centrata sulla situazione di questi di queste settimane, di queste prossime settimane. Il signor Vito dice è possibile effettuare un trattamento senza portare modifiche definitive all'impianto, cioè con apprestamenti temporanei. Probabilmente penso si riferisca ad impianti che non hanno a bordo un miscelatore termostatico piuttosto che... Posso provare Marco a rispondere? Assolutamente, assolutamente Claudio, prego. Nel senso... Probabilmente sì, però la cosa importante è che occorre sempre in questi casi fare la prima operazione che si chiama, anche tu Alessia l'hai giustamente evidenziata, valutare il rischio. Cioè serve che una persona competente con responsabilità analizzi l'impianto e valuti che cosa l'impianto è in grado di fare in quel momento per poter risolvere la problematica del momento e se l'impianto poi così come è configurato è in grado di andare avanti, poi effettuata la fase di bonifica, chiamiamola così, di andare avanti tranquillamente. Però questo non è generalizzabile e occorre fare un'ottima valutazione del rischio iniziale. E secondo me questa risposta potrebbe rispondere in parte anche la signora Federica che dice si sente spesso parlare della disinfezione con perossido di idrogeno e sale d'argento, è un trattamento valido, quali sono i vantaggi e svantaggi rispetto al cloro, all'iperclorazione? Perché qualcuno poi ha sottolineato in precedenza l'iperclorazione può essere dannosa per i componenti dell'impianto. Anche questo sì, perché purtroppo il cloro come Marco ha ben raccontato nella sua presentazione può dare dei dispiaceri ai componenti dell'impianto, cioè se può rendere l'acqua quindi aggressiva, componenti in ottone o nei materiali non corretti si possono danneggiare, le gomme, le plastiche possono soffrirne, quindi sicuramente tutto questo fa parte del pacchetto di valutazioni che il responsabile deve fare. Esatto. Allora io adesso andrei indietro qualche altra domanda. Ecco il signor Franco dice che la ripartenza post covid in impianti fermi di distribuzione solo acqua fredda, come per esempio alcune scuole, alcune strutture scolastiche, hanno solo reti di distribuzione acqua fredda, quindi probabilmente non è proprio previsto in quel caso che ci sia una rete anche, una produzione di acqua calda. Come fare la disinfezione? È sufficiente solo il flussaggio? Io penso che qua debba poi spostarsi sul metodo chimico, perché se non ha un generatore di acqua calda è difficile utilizzare un metodo termico. Purtroppo non ci sono molte vie di fuga, quindi bisogna o spostarsi sul metodo chimico o su metodi di disinfezione, magari come quello che hai citato prima, per ossidi di argento, che potrebbero fare la disinfezione. Però ripeto, se non c'è un generatore il metodo termico si autoesclude a prescindere. Perfetto. Partiamo un po' gli aspetti normativi e ci chiedono se ci sono dei riferimenti normativi che riguardano la manutenzione degli impianti sanitari. Claudio. Rispondo io? Sicuramente sì. E tra l'altro sono riferimenti normativi italiani ormai, perché sono il ricepimento di norme europee e la serie della, si chiama 806, la parte 5 è proprio dedicata alla manutenzione degli impianti idrosanitari con tutte le regole di controllo, quindi dai 6 mesi ai 12 mesi a tutto quello che, soprattutto il controllo anche di tutti i dispositivi, quindi sicuramente sì. Facendo riferimento alle linee guida che nella gestione del rischio ci dicono di eseguire un campionamento dell'acqua, soprattutto in impianti con funzionamento stagionale, come si può approntare nelle prossime settimane all'impianto? Devo fare per forza un campionamento con analisi batteriologica o in questo caso probabilmente conviene scaricare tutto e procedere poi con la valutazione del rischio. Marco, provo a rispondere io Marco se vuoi, ma era solo, dunque sicuramente la valutazione del rischio deve dirci anche le modalità di azione. Una cosa che sicuramente va tenuta in conto è che qualsiasi operazione io faccia di scarico della rete comunque, lo devo fare avvisando anche le autorità competenti, sia quando faccio lo scarico della rete contenente alte contenentazioni di cloro che quando faccio anche lo scarico della rete prima di immetterlo. Cioè se io ho una rete stagnante da tempo è rimasta piena d'acqua, io personalmente penserei subito ad effettuare lo scarico e il flussaggio iniziale anche con grosse quantità di acqua, poi fermerei l'impianto, doserei il disinfettante e procederei poi come è stato raccontato. Quindi lì fa parte della valutazione del rischio iniziale chiaramente perché dipende da impianto a impianto. perfetto, vi farei ancora c'è una domanda impiantistica, ci chiedono se ha senso proporre impianti ad anello in modo che tutte le utenze siano collegate tra loro e quindi sia il ricircolo a tenere in movimento l'acqua su tutti i punti di prelievo. Sì sicuramente è una delle tecniche, chiedo scusa Marco se volevi rispondere. No fai pure, fai pure. Ok ok è una delle tecniche che sta diventando sempre un po' di più di attualità e all'estero si usano già da tanti anni e sono chiaramente impianti un pochino più complicati ma sono impianti che chiaramente garantiscono un grande successo dal punto di vista del controllo poi della legionella e in tutte le sue possibili applicazioni ecco a livello impiantistico quindi sì la risposta è sì. Mi permetto di integrare un attimo quello che ha appena detto Claudio tanto è vero che mi confermi all'estero si sviluppano reti ad anello sia sull'acqua calda che sull'acqua fredda sanitaria con la rete di ricircolo per evitare la stagnazione quindi sta prendendo sempre più piede questo sistema. Sì diciamo sicuramente in più anche per tenere purtroppo dico che in alcuni casi la temperatura dell'acqua fredda anziché rimanere al di sotto dei 20 gradi sale ben oltre e quindi occorre a volte raffreddarla quindi diciamo è in impianti molto complessi però in struttura rischio è bene sicuramente tenerne conto. Bene vi faccio l'ultima domanda impiantistica e poi chiudiamo perché il tempo a nostra disposizione sta un po' scadendo ci chiedono se ho più reti di ricircolo posso installare a monte più miscelatori termostatici legio mix si possono coordinare fra loro quindi più reti di ricirco immagino ci sia solo una produzione centralizzata e poi più più distribuzioni. Impiantisticamente si può fare grossi impianti l'importante è un'analisi del circuito ecco e questo però purtroppo è un come dire un qualcosa che deve essere valutato bene gli impianti possono essere molto complessi occorre assicurarsi che ci sia la circolazione giusta ecco però sì si può fare. Immagino che questa domanda sia rivolta diciamo a impianti grossi quindi io terminerei dicendo e chiedendo il legio mix può essere controllato anche abbinato a un edificio che ha già un proprio sistema di supervisione quindi quando parliamo in un edificio grande abbiamo già un sistema di di controllo da remoto possiamo abbinarli anche il legio mix 1 assolutamente sì i miscelatori elettronici o ibridi come legio mix o 2.0 sono assolutamente integrabili in sistemi bms quindi con gestione da remoto in modo da permettere magari anche ad esempio stupido il gestore di più impianti può gestire comodamente da casa sua tutti i dispositivi di miscelazione che ha installato tramite un sistema bms o anche solo stupidamente dal banco di manutenzione o dalla reception dell'albergo quindi sono assolutamente e devono essere assolutamente integrati in questi sistemi. Perfetto io ringrazierei tutti i partecipanti. Io vorrei solo ricordare un appuntamento che è il prossimo Coffee with Calefi appuntamento che è è fissato per il 4 di giugno sempre la stessa ora quindi la 17 30 rimarremo sul tema degli impianti sanitari e andremo nel dettaglio delle reti di distribuzione quindi con tutti gli aspetti di sicurezza igienici il controllo che abbiamo anche qui poi accennato quindi grazie a tutti di nuovo per l'attenzione e alla prossima puntata buona serata buona serata a tutti